ciao a tutti e benvenuti alla pausa caffè di idea city oggi si parla di convertire immagini da formato ai a formato pdf se ti sembra che sto parlando arabo e in sigle ai non è il dolore che provi quando ti danno ti pestano un piede ma è un formato nativo del programma adobe illustrator è un programma a pagamento che se tu fai grafica vettoriale tutti i giorni ti conviene comprare però se per caso hai scaricato per esempio un'immagine a pagamento in formato ai e ti serve solo quella non è il caso di comprarsi un programma che costa una cifra per cui ho provato vari convertitori online per trasformare questo formato ai in pdf e riuscire a spuntarla senza avere il programma ne ho trovato proprio l'altro giorno uno che va bene e quindi ve lo faccio vedere e approfitto così mi ricordo anch'io del programma perché tutte le volte se no divento matta si chiama pdf convert online punto com cosa possiamo fare intanto volevo precisarvi che ho scaricato avevo fatto un po di giorni fa una puntata su dove trovare immagini gratuite e a pagamento e ho scaricato l'immagine su adobe stock e l'ho comprata e l'ho pagata chiaramente l'ho pagata perché la voglio usare e non ho voglia di comprare il loro programma che costa una cifra perché la grafica vettoriale la faccio già con un altro programma però d'altra parte mi vendono un formato e voglio utilizzarlo quindi andiamo su questo pdf convert online punto com faccio mi copio un attimo il percorso faccio scegli file vado a incollarmi il percorso e vado a prendermi questo ai e clicco poi sotto su apri ecco qua e poi faccio convert now bottone rosso attendiamo un attimo la conversione vediamo quanto ci mette lui adesso mi sta dicendo che in attesa ci va qualche decina di secondi per convertire il risultato lui ti dice ok ti ho preparato questo pdf bene a questo punto lo posso aprire e mi ha preparato questo pdf che si è convertito perfettamente quindi a questo punto me lo vado a salvare e lo posso aprire e riutilizzare eccolo qui se lo apro adesso è un formato un po gigantissimo adesso eccolo qua si è salvato perfettamente e chiaramente io poi posso fare salva immagine con nome selezionarla e me la vado a salvare dove mi pare me la sono salvata un attimo nel desktop e posso utilizzare l'immagine che ho salvato come meglio credo quindi nel mio sito posso utilizzarla ridimensionarla eccetera in questo caso mi si è salvata in formato bmp se la voglio poi utilizzare in un sito è meglio ritrasformarla in jpeg quindi in questo caso poi posso ancora salvarla in formato jpeg ecco qua scelgo salva con nome scelgo il formato di salvataggio la rinomino come mi pare e la salvo e quindi praticamente in pochi passaggi ho trasformato un formato vettoriale ai proprietario in una immagine in jpeg che posso riutilizzare per metterla nel mio sito bene anche per quest'oggi è tutto e allora ci sentiamo domani grazie per chi mi segue la pausa caffè di idea city su facebook e su youtube alla prossima ciao